ciao a tutti anche se capisco che magari l'orario non è adatto per fare colazione però comunque quando uno vuole fare una colazione la mattina e vuole dimagrire almeno sa quello che comunque deve prendere allora e vi faccio vedere in questo video cosa si deve mangiare solitamente quando si deve perdere peso allora vi faccio vedere un po che cosa ma ho fatto colazione ricca nutriente ma allo stesso tempo termogenica perché comunque tutto quello che ho mangiato che mangio la mattina a colazione stimola il metabolismo stimola la termogenesi corporea quindi va a bruciare ovviamente le calorie noi sappiamo benissimo che quando facciamo la dieta solitamente la sera dobbiamo mangiare leggero anche per non accumulare magari peso vabbè ci sta magari una fetta di pane però magari chi vuole dimagrire lo evita quindi non solo un pasto leggero ma anche diverse ore di digiuno ovviamente che ci portano la mattina ad avere tanta tanta fame quindi che occorre fare occorre coprire tappare il centro di fame lo stomaco con i cibi giusti non quelli sbagliati tipo merendine biscotti e quant'altro ancora ho messo a tavola vedrete le fette biscottate uno yogurt della che film mischiato come vi ho spiegato io con del cacao e del latte tutti i cibi sani che fanno bene in questo video vedrete che ho aggiunto anche il cacao perché un cucchiaino di cacao in polvere non fa male aggiunto ovviamente quello zuccherato perché perché a differenza di una sola caloria poi ripeto di zuccheri ci vogliono sempre quindi una fonte di zuccheri la mattina sono necessarie ma di quelli giusti per affrontare la giornata anche perché non la mattina abbiamo bisogno di zuccheri visto che comunque siamo stati tutta la notte a digiuno anche se magari durante il giorno non assumiamo carboidrati perché vogliamo dimagrire anche se ripeto anche una piccolissima quantità può andare bene però ripeto se vogliamo dimagrire in più fretta cosa essenziale è magari ridurre al massimo il più possibile o toglierli anche se voglio dire che poi ve lo spiegherò magari un'altra volta noi carboidrati ritroviamo anche delle verdure tipo nelle carote nelle patate nella zucca e in piccole quantità anche nelle zucchine nella verza anche nei legumi perché no anche una piccola percentuale nel latte nel latticini quindi ovviamente mangiando in modo sano ed un modo equilibrato una fonte di zuccheri non ci verrà solitamente a mancare guardate questo video così capirete come ho fatto in un solo mese vi giuro a perdere circa 5 kg e mezzo parla 6 quindi sono molto molto contenta guardate questo video come spunto per chi ovviamente desidera perdere peso come si prepara una colazione sala prendo un bicchiere e lo metto sulla bilancia accendo a zero tutto a questo punto calcolo un cucchiaino di cacao non amaro ma con lo zucchero e qui siamo a 5 grammi cucchiaino a solo 18 calorie poi via zero ovviamente e metto pochissimo latte quanto basta per sciogliere il cacao a questo punto metto nel forno a microonde per pochissimi secondi bastano solamente 5 6 secondi a questo punto mette il bicchiere sulla bilancia e accendo il tutto il latte risultarsi un po troppo caldo aggiungeteci appena un gocciolino poi potete aggiungerci yogurt che sono questi due della che prima però di metterlo nel bicchiere è bene agitarlo prima e riagitiamo anche questo allo zenzero che fa molto bene perché stimola il metabolismo questo punto giriamo bene con il cucchiaino e è pronto per poterlo bere e questa bevanda sana nutriente che non fa male il cacao che fa bene ci dà il magnesio tante proprietà benefiche per il nostro organismo poi andiamo a pensare il latte accendendo quando il bicchiere sulla bilancia a questo punto vado a misurare il latte che è esattamente un bicchiere pieno è 220 164 ma io vado leggermente più su è un bicchiere del genere consentito voilà ecco a voi la mia colazione quattro fette biscottate con la marmellata fatta in casa un caffè e io adesso vado a zuccare il caffè con questo cucchiaino di zucchero di canna sì ecco sia a voi la mia colazione sana che faccio tutte le mattine per perdere peso buona giornata a tutti come avete visto fatto una colazione sana nutriente che ovviamente non ha fatto sentire tutta questa fame durante la mattina anche se vi consiglio di bere qualche bicchiere d'acqua nel corso della mattinata se potete ovviamente se non potete non ve lo sto a dire qui non bevete il cacao come avete visto quando non ve lo spiegherò è una fonte sana che fa di nutrienti che comunque all'interno abbiamo una gran fonte di magnesio ma anche una gran fonte di caffeina che comunque ci va a stimolare il metabolismo detto questo concludo quel video è venuto per avermi seguita fin qua e sono contenta di questi risultati vi posso garantire che comunque per dimagrire non ancora andare a ricorrere a quelle bevande costosissime che ovviamente si pronunciano iperproteiche ma basta utilizzare delle piccole accortezze come quella che avevo fatto vedere una colazione sia a base di carbidati giusti tipo la fetta di pane o delle fette biscotti biscottate con un velo di marmellata vanno più che bene abbinate alla fonte di proteine come latte e yogurt detto questo noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti